Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia. È il momento del nostro approfondimento quotidiano del mattino. Oggi parleremo della missione istituzionale del Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti. Una missione che si è conclusa qualche giorno fa e che ha avuto per protagonista diverse realtà della nostra regione, dai vertici proprio del Friuli Venezia Giulia, con la Presidente Serracchiani, alle Camere di Commercio, all'ERSA, tanti imprenditori della nostra regione che sono andati oltre oceano per cercare di capire come funzionano le cose oltre oceano, per cercare nuove opportunità di sviluppo per le proprie realtà. E oggi noi parliamo proprio di questa missione assieme ad alcuni protagonisti, assieme a Omar Londero della Camera di Commercio di Udine. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ha coordinato la missione per quanto riguarda la Camera di Commercio e poi abbiamo anche uno degli imprenditori e protagonisti di questa missione, Fabio Valgimigli. Buongiorno e benvenuto. Dell'azienda Queen, un'azienda che attiva nel settore dell'ICT, perché è proprio uno, quello dell'ICT, dell'Innovation and Communication Technology, uno dei settori al centro di questa missione. Io comincerei proprio raccontando un po', Omar, quello che avete fatto in questi giorni negli Stati Uniti e qual è la missione proprio di questo viaggio oltre oceano, che non è il primo, ce ne sono stati altri, ce ne saranno altri ancora, poi magari lo diremo, ma in questo caso qual è stato l'obiettivo da raggiungere? Sì, le Camere di Commercio regionali, a livello di sistema anche nazionale, organizzano le missioni imprenditoriali all'estero per le nostre aziende. In questo caso in America, dopo tanti anni di diverse iniziative, siamo riusciti a fare sistema e quindi per i diversi settori che operano nel nostro territorio siamo riusciti a organizzare un mese di presenza imprenditoriale, nonché di incontri istituzionali ad altissimo livello. In questo caso siamo partiti con una missione appunto dell'ICT che ha toccato Boston e Toronto, ma che contemporaneamente ha visto una promozione dell'agroalimentare friulano a Italy, quindi nel maggior store mondiale delle delicatessen italiane, caratterizzato e declinato sul nostro Friuli Venezia Giulia. Contemporaneamente una selezione di imprese dell'arredo ha partecipato a HOMI, all'ICFF, una fiera di riferimento per il mondo del design a New York. Le imprese inoltre sono potute andare a fare degli incontri mirati a Chicago, multisettoriale, avevamo imprese della meccanica, dell'arredo, nonché a Toronto una rete di imprese nostrane operanti nella filiera abitare hanno aperto e condotto uno showroom che ha catalizzato l'attenzione di architetti, designer e di tutto il mondo che ruota a quello che appunto è la casa. Quindi una missione veramente in massa, possiamo dire, una missione importante che ha coinvolto tantissime realtà, dando forza un po' a questo sistema regione piccola, però se si uniscono le forze, se si fa rete, si può davvero fare qualcosa di importante, anche in realtà grandissime come quelle degli Stati Uniti. È importante far rete, mettersi assieme. È davvero importante, le componenti che hanno contribuito a rendere questa missione di successo sono quelle che lei ha già citato, quindi partendo dalla regione, dall'ERSA, ma per poi scendere anche a livello di Confindustria, che ad esempio ci ha accompagnato nella missione ICT, nonché l'Università di Udine, è un player molto importante per quello che è il raccordo fra il mondo della ricerca e il mondo imprenditoriale. Quella foto che abbiamo appena visto, ecco, ce l'abbiamo alle nostre spalle, la vediamo adesso a schermo intero, ritrae alcuni dei partecipanti a questa missione proprio al MIT, ingegnere Valgimigli. La vediamo in questa foto, ci racconta qualcosa di questo viaggio? Beh, intanto rispetto a quello che ha appena descritto Omar Londero, noi abbiamo partecipato, ci siamo concentrati, diciamo, sulla parte più dedicata all'ICT, quindi alla terza missione in termini temporali che è stata promossa dalla Camera di Commercio insieme al Distretto delle Tecnologie Digitali. Quindi abbiamo fatto due anni fa la zona della Florida, Miami, Orlando, Fort Lauderdale, eccetera. L'anno scorso abbiamo fatto una missione a San Francisco e tutta la Silicon Valley e quest'anno siamo dedicati, diciamo, di nuovo a East Coast, quindi a Toronto e prima a Boston ancora. In questa foto in particolare, come diceva lei, siamo stati onorati, diciamo, di partecipare a un incontro al mitico MIT di Boston, che per chi, insomma, ne sa un po' di tecnologia è il punto di riferimento a livello mondiale dal punto di vista accademico, ovviamente. È solo una delle tappe che abbiamo fatto in questa missione, perché oltre ovviamente alle istituzioni all'Accademia, oltre a Boston abbiamo visitato Harvard, un college a Toronto molto interessante. Abbiamo fatto ovviamente poi altre tappe più dedicate anche al business, quindi visitando acceleratori d'impresa, incubatori d'impresa, nonché camere di commercio che ci hanno messo anche in contatto con l'impresa locale per darci un po' il taglio di quello che è il contesto socio-economico, ma soprattutto l'ecosistema americano. Questo devo dire che è quello che ci si porta a casa in particolare, quindi il fatto che lì esista proprio un ecosistema è un sistema che ha una missione unica, che ha un obiettivo comune e aiuta quindi imprese, università, accademie, governo stesso a perseguire certi obiettivi. Ovviamente qui c'è molto da fare, questo anche per questo direi che è stata importante la presenza istituzionale, in particolare appunto della Presidente della Regione, perché immagino che abbia tratto anche lei molti spunti per cercare poi di riportarli in un contesto un po' diverso, perché ovviamente non è possibile ricreare un ecosistema simile qui da noi, però degli spunti interessanti, del best practice, delle buone pratiche, come si suol dire, si possono analizzare e cercare appunto di prenderne il meglio per portarlo anche qui. Diciamo che comunque alla fine di tutte queste tre missioni, direi, per avere una visione un po' più globale, una cosa che ci si porta a casa è che ovviamente il contesto americano e il modello americano è sicuramente molto interessante dal punto di vista soprattutto dell'ICT, perché poi ovviamente io non parlo dell'ambito food mobile, dove insomma magari si è anche più maturi come Sistema Italia per poter esportare i nostri prodotti. Nell'ICT ovviamente il contesto e l'obiettivo deve essere un po' diverso, quello anche di capire di più e imparare di più, però devo dire che insomma le eccellenze che abbiamo sul nostro territorio alla fine possono anche competere a livelli buoni e sicuramente abbiamo qualcosa da invidiare, ma abbiamo anche qualcosa forse da insegnare. Ecco, quindi le eccellenze, diciamo così, la materia prima nella nostra regione, nella nostra realtà non manca, però diceva prima che ci sono delle cose che possiamo copiare, tra virgolette, che possiamo prendere a modello dagli Stati Uniti. Cosa manca nella nostra regione, nella nostra realtà che invece oltreoceano c'è, tenendo come ha detto bene lei prima in considerazione il fatto che sono realtà completamente diverse, sia da un punto di vista numerico che di sistema appunto? Certo, certo, diciamo che il mercato americano è sicuramente dimensionalmente un mercato molto diverso anche da quello a cui siamo abituati qua, non solo italiano ma anche europeo ovviamente, quindi i numeri là hanno dei moltiplicatori molto importanti solo per il fatto di avere comunque una base territoriale, un mercato a disposizione molto ampio. Detto questo, ci manca quello che dicevo prima, l'ecosistema è quello che viene trasmesso in maniera più forte quando si va in quei posti, perché ogni player, diciamo ogni entità che partecipa a questo sistema, quindi intendo il governo, le camere di commercio, i sistemi delle federazioni, gli incubatori di ricerca, le accademi, i laboratori e le università stesse fanno il proprio sistema, quindi ci sono ovviamente molti fondi e questo aiuta, aiuta molto, devo dire. Però c'è anche molta, credono anche molto nella ricerca e nello sviluppo mettendo a disposizione strumenti, oltre che finanziari, anche insomma risorse territoriali, umane, eccetera, per poter perseguire, come dicevo prima, un obiettivo comune. E questo sicuramente è un sistema virtuoso, perché poi i risultati effettivamente ci sono, si vedono. Prima abbiamo visto anche altre foto, sempre tratte dal sito internet del Fully Future Forum, ma anche del sito Facebook, che ha documentato e raccontato bene questa missione. C'è anche un video, che tra l'altro la vede protagonista, davanti a uno schermo, ecco, tra poco lo vediamo. In questo caso, dove siete? Qui siamo al museo, diciamo, della Microsoft di Boston. Devo dire che questo video è stato rubato, nel senso che non ho firmato nessuna liberatoria, ma la potenza della comunicazione dei media moderni è stato pubblicato immediatamente, prima che noi tornassimo addirittura in Italia, quindi non lo sapevo comunque, a parte le battute. Una visita che abbiamo fatto è stata proprio al centro tecnologico della Microsoft di Boston, in uno dei tour, dopo insomma una parte più istituzionale, di presentazione anche dei progetti, che Microsoft può mettere a disposizione, anche di imprese italiane, per quanto riguarda gli acceleratori di ricerca, gli incubatori, quindi l'avviamento anche di start-up, e di nuove imprese, sempre nell'ambito tecnologico. Dopo appunto questi incontri un pochino più istituzionali, c'è stato mostrato il centro di ricerca, questa era una parte interessante, perché è addirittura un museo della tecnologia, che magari in questo museo noi vediamo anche cose che qua non sono ancora arrivate, e per loro sono già museo, però, insomma, questo già dà un'idea del gap che c'è da colmare, però, insomma... Non basta superare un oceano per risolvere il gap e le distanze. Esatto. Diceva prima, aveva affrontato il discorso incubatori di imprese, forse può essere anche questo uno degli aspetti che accentuano le differenze fra il nostro paese e gli Stati Uniti, forse da noi mancano delle realtà che consentono alle piccole imprese di nascere e di svilupparsi. Negli Stati Uniti ce ne sono molte di più. Assolutamente sì, anche perché negli Stati Uniti funziona molto bene tutta la macchina del Venture Capitalist, quindi anche dell'equity privato, della partecipazione con capitale di rischio di soggetti privati, quindi disponibilità di finanza ce n'è tanta, c'è moltissima selezione, ovviamente, perché non si può pensare che sia l'isola felice, ovviamente, dove uno fonda una start-up, diventa ricco nel giro di due o tre anni, questo succede, ovviamente noi vediamo solo i casi eclatanti, perché sono quelli che effettivamente hanno fatto successo, tipo Uber, PayPal, Google a suo tempo, eccetera. In realtà poi c'è tutta una moltitudine di fallimenti, anche se ovviamente poi lì il fallimento è visto come una parte del percorso, non è visto come un fallimento personale, e quasi ti dà anche un'abilitazione a ripartire, perché hai già fatto certe esperienze negative. Però detto questo, è ovvio che c'è una selezione elevatissima, perché poi la competitività è molto alta, il profitto è sopra tutto, quindi viene bruciato tutto in tempi molto brevi, soldi, denaro, tempo, o si riesce velocemente, o se non si è fuori da quel mercato. Per questo, dicevo prima, spunti positivi ce ne sono sicuramente, ci sono anche degli aspetti più di carattere magari, chiamiamolo, legati al personale, o legati a contesti, o valori un po' diversi, che forse non vanno così sottovalutati, che noi abbiamo in maniera più forte. Infatti ci sono state alcune dichiarazioni di un presidente, di un'azienda attiva nel settore dell'ICT di Boston, che tra l'altro è a origini locali, perché è un esule istriano, Gianfranco Zaccai, che appunto ricordando anche le sue parole ha detto qui una start-up che chiude a pochi mesi dall'avvio non è un fallimento, è una fase, qui l'obiettivo non è evitare di sbagliare, ma è sbagliare velocemente e ripartire, anche questo è insomma un buon insegnamento. Omar Londero, siamo in chiusura, le prossime missioni dove vi porteranno, dove porteranno i nostri imprenditori? Le iniziative si moltiplicano, sono sempre visionabili in ordine cronologico di altri criteri sul nostro sito www.ud.camcom.it, sono sempre iniziative che partono da momenti di approfondimento qui in Friuli per le nostre imprese, ad esempio oggi pomeriggio ospitiamo l'ambasciatore del Canada nella nostra Sala Valduga proprio per un incontro aperto alle imprese per tutti quelli che sono gli aggiornamenti anche sulle nuove normative che entreranno in vigore con i nuovi trattati fra il Canada, il Nord America e l'Unione Europea. Ci sono anche altre missioni programmate in America, come ad esempio a settembre la missione che toccherà Houston per la prima volta, quindi il Texas, e comunque all'interno, ad esempio per il comparto vitivinicolo, all'interno dei progetti finanziati dall'OCM, oramai da anni sono centinaia le imprese che investono, supportate dalle istituzioni, nelle proprie operazioni commerciali proprio verso anche il Nord America. Quindi insomma un po' in tutto il mondo, dal sud-est asiatico all'America, anche all'America Latina. Posso chiudere un secondo con, visto che non ho l'occasione di farlo pubblicamente, con un plauso anche alla Camera di Commercio, perché sono anche dato atto del fatto che queste missioni sono organizzate, sono molto difficili da organizzare e sono organizzate molto bene, nel senso che sono ricche di contenuti e come abbiamo visto con degli incontri di livello assoluto, quindi devo dire bravo Omar, a tutti i staff, al presidente da Pozzo, perché non sono vacanze come magari nell'immaginario collettivo possono essere viste, ma sono molto fitte di incontri, molto faticose, ma devo dire cibo per il cervello. Molto proficue. Grazie. E quindi in missioni che proseguono, che vanno avanti lungo questa linea che ormai è stata tracciata già da qualche anno. Grazie a Omar Londero, della Camera di Commercio di Udine. Grazie a tutti. Grazie a Fabio Valgimini. Grazie a voi. Per essere stati qui con noi oggi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e come sempre l'invito è quello di rimanere in nostra compagnia. Buona giornata e ancora buongiorno Friuli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.